Poi dopo abbiamo fatto una riunione del Consiglio dei Ministri, in cui tutto sommato di nuovo è stata una riunione positiva, perché abbiamo passato in rassegna gli obiettivi del PNRR che devono essere raggiunti entro fine giugno. Abbiamo fatto una disamina di questi obiettivi e a che punto siamo con il raggiungimento di questi obiettivi. Devo dirvi che sono molto tranquillo a questo punto, che questi obiettivi saranno tutti raggiunti.